Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A11 chiuso per lavori l'allacciamento con la 12 a Pisa provenendo da Firenze. In A12 per gli stessi cantieri chiuso l'allacciamento con la 11 in direzione Pisa e con la statale 1 Aurelia provenendo da entrambe le direzioni. Sempre in A12 attenzione alla frana tra la barriera di Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. Sulla statale 1 Aurelia tratto chiuso per allagamenti in direzione nord tra Marocconi e Livorno Sud, tratto chiuso per allagamenti anche nel centro abitato di Stagno. In FIPILI attenzione al personale su strada per lavori tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Eraest in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!